Da oggi a domenica in programma in Friuli i campionati italiani di ciclocross, l'appuntamento clou della stagione per molti atleti pugliesi. L'ultimo banco di prova si è tenuto invece ad inizio anno sul circuito cittadino di Corato. L'organizzazione targata Team Eurobike ha infatti portato in via gravina il trofeo ciclocross Centro-Sud Blue Energy che sul tradizionale tecnico e veloce tracciato di 2,5 km disegnato sul terreno di proprietà della famiglia Berardi ha inaugurato di fatto il 2022 a suon di pedalate e tanto spettacolo. Tre le gare previste, delle quali l'ultima, quella riservata alla categoria cadette, è stata valida come prova unica del campionato regionale pugliese per gli esordienti primo anno nati nel 2009 in seno alla federazione ciclistica italiana. L'ambita maglia è stata vestita dal biscelliese Francesco Dell'Olio della Ludo Bike Racing Team, già protagonista alle promozionali del Giro d'Italia ciclocross e dalla Rubese, Ilaria Di Terlezzi dell'Avis Bike Ruvo. Complessivamente è poco più di un centinaio del teti al via tra le categorie agonistiche master e giovanili che hanno potuto mettere a punto le abilità tecniche e scaricare i batti di potenza sui tratti veloci. La gara regina, quella disputata sulla durata di 60 minuti, ha visto ancora una volta in auge il dualismo tra Vittorio Carrer ed Ettore Loconsolo. A una prima parte di gara condotta insieme è seguita una lunga porzione centrale con il coratino in fuga e il biscelliese attardato da un problema meccanico e un finale in cui si sono ribaltate le carte in tavola. Loconsolo del team Fracor ha prima raggiunto e poi staccato l'amico rivale Carrer del team Terenzi Eurobike. Terzo degli Open Antonio Labieri della Loco Bikers e migliore dei master Francesco Acquaviva. Nella batteria da 40 minuti non ha avuto rivali invece lo juniores Ivan Carrer, fresco del bruciante secondo posto nella generale del Giro d'Italia di ciclocrosso. Sul traguardo ha preceduto i parietà Andrea Sicuro della scuola di ciclismo Tugliese Nibali e Fabio Grosso del team Bikers Vigiano, mentre la lucana Ilenia Matilde Fulgido del ciclo team La Noce ha preceduto la compagna di squadra Aurora Falabella nella classifica delle donne Open. Primo dei master, il padrone di casa Luigi Carrer all'ultima comparsa in tricolore prima di difendere il titolo. Nella gara di 30 minuti dedicata ai più piccoli, ottima prestazione dell'Andriese Simone Massaro dell'Andria Bike che ha preceduto il compagno di squadra Antonio Regano e Luca la guardia del team Bikers Vigiano.